Perché siete contro la politica? Dice tutte le profezie, stiamo in corso, il giudizio è la morte, non vena per il mondo, vena arrivare cattivo, salmo, 37 e 10, l'ingiusto possiede la terra, malvagio è lì. Lei ha detto che non va al cimitero? No, per i morti non vengono, dice 10, 5, Giovanni, 25. Perché non va al cimitero? Perché sono lì, le morte, andavano qua mamma, le morte stanno riusciti a vedere, tutto, buono e cattivi. Gesù ha detto, vengono giunti, vengono, 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 vengono. Gesù ha detto, Gesù lo ha fatto per lui e lo farò come la giudica le vive, è doppio i morti. Questo è. Dice la prova romana, dice, tutti conosceranno Giova, fare la vita eterna. Giovanni dice, questo signora la vita eterna, che a questo è riconosciato è il vero Dio e Cristo. La paguole che dice, lo fate no, lo fate il nostro, dice, lo fate il nostro, dice, lo fate il nostro, è sperato, non è tutto il momento, non chiamate Padre, ora è Padre Celeste.